Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Chiara Come state? Fatemi sapere come state, io non me lo chiedo mai ma oggi sono particolarmente interessata a questa cosa Sono di nuovo qui per farvi un video haul Devo dire che questo periodo a me mi distrugge veramente io non riesco a dare un freno alla mia voglia di acquistare perché vedo sconti ovunque, effetti imperdibili e non ce la faccio a resistere Ragazzi, non ce la faccio Come devo fare? Aiutatemi Io infatti mi sento super super in colpa, vi giuro Allora, ne ho approfittato per fare un ordine da WeMakeup che tra l'altro è un ordine che volevo fare da secoli e secoli ma non mi decidevo mai Tra l'altro, in WeMakeup fanno questa offerta che se più prodotti comprate, meno pagate la spedizione anzi, mi sembra che per tre prodotti avete la spedizione gratis cosa che ho fatto io per approfittarne e ho anche un po' osato Adesso vi faccio vedere perché Allora, innanzitutto il pacchetto è questo qui molto carino, veramente simpaticissimo con tutte queste scritte in rilievo lucide veramente troppo troppo carino Dietro c'è, diciamo, la storia dell'azienda Si apre in questo modo, scorrendo E dentro, e ovviamente l'ho già aperto ce l'ho da un sacco di tempo infatti non vedevo l'ora di questo video Esce questo adesivo tutt'olio grafico di WeMakeup In più abbiamo questo adesivo con carta che ovviamente ho strappato e dentro si presentano i prodotti Allora, ho preso tre cose Innanzitutto le tinte che ovviamente sono il motivo principale per il quale ho comprato e che volevo comprare da una vita e sono troppo carine ragazzi troppo curate, veramente bellissime Guardate qua cosa creano Forse così, ecco Insieme uniscono la bocca Creano appunto la bocca con scritto Ever Bellissime E stavo dicendo, ho osato in questo ordine perché ho comprato una cosa che non avrei mai pensato di comprare anche perché io non sono molto nel trend cioè non è un trend che mi piace tantissimo Comunque vi faccio vedere quella più classica Innanzitutto poi ogni tinta ha questa scritta vicino In questo caso c'è scritto Believe me girl, this could be your best time ever Ho cercato di aggiustare un po' l'inquadratura scusate Comunque ogni scritta contiene la parola Ever Questa in particolare è la numero 02 Marcea Linude si chiama E Deo Nude stupendo Questo è il pack Si presenta in questo modo Con appunto un pack opaco Si può vedere il colore però è appunto opaco con la scritta Ever Liquid Lipstick Lo scovolino si presenta in questo modo Molto particolare Io l'ho usata questa soprattutto già diverse diverse volte Vedete com'è E vi devo dire che Lo scovolino è veramente azzeccato Mi piace tanto Aiuta davvero tanto la stesura Ed è praticamente quello che ho oggi sulle labbra Mi piace tantissimo Ha un odore di vaniglia Sta proprio come le tinte di The Balm Però senza la componente di menta Che è molto da fastidio È proprio quella vaniglia stupenda È abbastanza liquida Ma non tanto quanto per esempio quelle di Wicon Quindi mi piace molto Colori pienissimo dalla prima passata Bisogna pulire leggermente lo scovolino Perché prende veramente prodotto Però c'è per dirvi che comunque basta Una cucciata per poter fare tutte le labbra Anzi avanza anche Questo prodotto è un prodotto Che invece ho pensato proprio per Natale E ovviamente non è un prodotto che già possiedo Ho pensato proprio di provare questa nuova tipologia Perché stiamo parlando della Metal Matte Quindi è una tinta metallica Io questa l'ho provata solamente Quando è arrivata così giusto per vedere E devo dire che è molto aranciata Di questi qua che mi piacevano C'era questa qua rossa Che è appunto il numero 64 Tiger Red È il classico rosso Anche se sulle mie labbra è molto aranciato Infatti non è che mi piace tantissimo In questo senso Però ho pensato di mettere sotto Un rossetto più rosso scuro E poi mettere questi sopra e vedere come è risultato Però ancora non l'ho provato Comunque il pack in questo caso invece È lucido Molto carino Da dentro già si può percepire La straordinarietà di questo colore È veramente stupendo Ha una quantità di riflessi durati russi Bellissimo Di questo vi faccio lo swatch Che è pienissimo Guardate qui Qui la scritta è Please tell me is enough ever enough Eccola Comunque è veramente super carina Queste qua Tutto super curato Mi piace tanto questa azienda Penso proprio di comprare altri colori Perché poi sono davvero tantissimi Veramente tantissimi E poi come terzo prodotto Giusto per ve lo dico sinceramente Per avere le spese spese gratis Ho preso uno smalto Che si chiama How Questa linea si chiama Ma How E il colore è questo Credo Sì Santelmo Red E capirete che quindi è un red Tra l'altro è praticamente Penso quello che ho sulle mani Cioè non è questo Però È uguale a un colore che già ho Però io praticamente Ultimamente Utilizzo solo questo Infatti ho pensato di farvi un decluttering Dei smalti Però non so quanto possa essere interessante Sinceramente Comunque questo si apre in questo modo Dall'alto E qui c'è scritto How could it be How could it be otherwise Presente questo modo molto carino Vedete che è un classico red Ha questo tappino che Si toglie ed esce quello tutto Che è una cosa che non ho mai capito Comunque Molto molto simile a quello che ho Ma appunto non l'ho ancora aperto Voglio utilizzare quando Finirò per l'altro Poi il secondo ordine Che ho fatto È un ordine di Machilalia Allora ragazzi Sapete che Machilalia Già normalmente Fa degli sconti assurdi Delle promozioni Veramente che mai nessuno Quindi adesso Sono arrivata proprio Gli ultimi giorni E ho detto No Adesso lo faccio Ho speso tanto E mi sento davvero in colpa Non sto scherzando Si mi sento in colpa Non me ne sono ovviamente Pentita Perché le cose che ho comprato Sono stupende Sono cose che avevo Nella mia wishlist Comunque Approfittando Della promozione Ah comunque Io qui avevo i prezzi Credo Ah no Questa è Machilalia Di WeMakeup Ecco una cosa che non mi è piaciuta È che non c'era nessun foglio dentro Con i prodotti scritti E quanto avevo speso Quindi Non lo so E ho preso Queste Che sono le Oil Oil Control Tissues Praticamente sono Le classiche Asciugasebo Perché ultimamente Non so Che cosa prende La mia pelle Ma sta proprio Generando Sebo In continuazione Forse perché Ho cambiato crema E non va molto bene Per me Comunque si presentano In questo modo Queste sono le Striscette Cioè le Berine Costava solo Un euro Le ho viste per caso Ho detto Sì aggiungiamo Un euro E quindi Queste me le metto Adesso in borsetta E ve le porto Sempre con me Poi Un altro prodotto Che questo Veramente mi serviva Cioè In tutte le cose Che ho preso L'unica cosa Che mi serviva Praticamente Ed è il Si chiama Clear Lock Brow Gel Della marca City Color Che io non ho mai provato Tra l'altro Allora Questo cofanetto Praticamente Della NYX Che ha Tre soft Matte Lip Cream Appunto Della NYX Che In full size Sono tre Al prezzo Praticamente Di meno di una Una cosa del genere Perché mi sembra Che una costa Tipo sui 12-13 euro E questo L'ho pagato Interamente 11 euro E qualcosa Siccome Ormai Con le tinte Sono impazzita Cioè Ne ho comprate Tantissime Io veramente Non so Quando mi fermerò Ne ho veramente Tante Il cassetto Praticamente È diventato pienissimo E non si apre più Ho detto Beh Usiamo Almeno Abbiamo un colore Nude Che è questo E altre due Un po' più pazzi Almeno Ho dei colori Diversi Da quelli Che ho sempre Allora Sono tre La prima È Copenhagen Dove c'è scritto Sì Eccola Che è quella Classica Rossa Poi abbiamo La più bella Secondo me Che è Butabest È un colore Stupendo Ve lo giuro E poi abbiamo Quella più pazza Di tutte Che è Non c'è scritto Mi sembra Musco Sì Musco Vabbè Non si vede Non si vede nemmeno La scritta Che è questo blu Tra l'altro Queste due Scure Ma io già lo sapevo Però C'è proprio Impazzita Sì Io ho detto No le devo prendere Le devo avere Uno sconto Troppo sconto E quindi Non le posso lasciare lì Quindi le ho prese lo stesso Sapendo che comunque Queste due Sono super disomogenee Soprattutto Musco È veramente La disomogeneità Fatta a tinta Vi faccio vedere Cioè Vedete che Non è per niente pieno Sulle labbra È molto difficile Stenderlo perché Già l'ho provato Giusto per provarlo Copenhagen Non l'ho mai utilizzata Queste due sì Quindi Buttapest Mi piace tantissimo Colore super omogeneo E ha una consistenza Tipo di mousse Veramente Veramente Bella Mi piace tanto Il senso di quest'ordine Alla fine era solamente Per i prodotti The Balm Che io Praticamente volevo acquistare Da una vita Però Un po' costosi Un po' questo Un po' quello Alla fine Non lo so Non mi andava tanto Ma questa volta Proprio tutto Basta Adesso Sfogliamoci Proprio via Buttiamo via I soldi E ho preso La cosa che desideravo Di più Da 700 anni Che è questa È la Nude Dude Di The Balm Che è la seconda Praticamente Volume 2 Ho preso la seconda Perché Vabbè Parte back Straordinario Veramente Stupendo Molto più bella Molto più bella Secondo me Di Too Faced Urban Decay Benefit Eccetera Veramente Stupendo Ho preso questa Perché Semplicemente per i colori Perché penso che A differenza della prima Le avrei utilizzate di più Perché del pennellino Estremamente inutile Questo è il pennellino Che veramente Non lo so Comunque Questa è la palette Queste sono le colorazioni A colori A qualsiasi tipo di colore È utilissima A colori caldi Anche qualche freddo A colori di Per tutta la palpebra Questo è illuminante Stupendo Per tutta la palpebra Per transizione Anche questo Poi ha questi due rosa Che sono veramente stupendi Che sono quelli che ho utilizzato Molto Un dorato Un rame Questi colori più scuri Che sono veramente belli Grazie a tutti È una palette perfetta A qualsiasi cosa Non avete bisogno Di prendere Almeno a mio parere Per come mi tocco io Alte palette Quindi sono veramente felice Questa l'ho pagata 25,95 euro La promozione di The Balm Era che Praticamente se prendevi Tre prodotti Quello che costava di meno Lo pagavi gratis Lo avevi gratis Quindi come secondo prodotto Ho preso un altro prodotto Che volevo da Un sacco di tempo Famosissimo Che non dovrei manco Farvi vedere Praticamente Basterebbe dirvi il nome Ma anzi Basterebbe farvi vedere Un attimo E basta Poi posarlo Andare avanti Perché l'avete visto 750 miliardi Di volte Sicuro Ed è questo Praticamente Il Mary Lou Manizer Di The Balm Che ho pagato 15 euro Tra l'altro Io mi ricordavo Che su Magillalia Costava 17 euro Quindi penso che Ebbene abbassano ancora Di più prezzi Quindi straordinario Vi consiglio di prendere Sempre dei prodotti Di The Balm Comprateli sempre su Magillalia Perché Hanno dei prezzi Veramente convenienti Questo è il prodotto Vabbè Lo faccio vedere Perché non resisto Però Lo sapete Ho deciso Ok Me lo sono comprata Però Lo metto da parte Sì ragazzi Non ce la faccio Perché Sto rumore Perché so che Se iniziasse a utilizzare Questo Puoi utilizzare Solo questo E quindi Andrò avanti Con quello Che sono utilizzato In questo periodo Quindi finché Non farò Un bel bucone A quello Che io sto utilizzando Adesso Che vedrete Nel prossimo video Del project man Non lo utilizzerò E So che Può sembrare Una pazia Per qualcuno Però Per il mio assenso Anche perché Ho notato Che è una cosa Che funziona con me Cioè se io Non li metto Nel mobiletto Che è un maglio Dove c'ho tutti i miei trucchi Ma li metto In una scatola Qui nella stanza Me ne scordo quasi Che ce le ho E quindi Non vado a cercarli Non li vedo E quindi Non ci penso E non li utilizzo E poi L'ultimo prodotto Che ho avuto Gratis Che costa Rigeneramente 14 euro Quindi ho risparato 14 euro E vai E questo Che è un'altra cosa Che non mi serviva Assolutamente Però Ragazzi Andiamo avanti E questo Il Balm Desert Di The Balm Questo ha La Questo ha Il cartoncino Veramente troppo Carino Guardate E si apre In questo modo Ed è questo Io direi Che con questo video Possiamo Terminarlo qui Credo di aver fatto Vedere tutto Ma non ne sono sicura Il video dei vestiti Ve lo faccio Dopo Cioè Ve lo faccio Con un altro video Che sto dicendo Perché se no Durano troppo Io vi mando un bacio E ci vediamo Tra poco Al prossimo video Ciao